Siamo al seminario di Fano, si è tenuto oggi un incontro del distretto di economia sociale e Marche Nord, siamo col Presidente Giovanni Di Bari, che cos'è questo distretto? Allora, il distretto è innanzitutto un luogo di partecipazione, un luogo che può essere sfruttato da qualsiasi realtà del territorio che voglia dialogare e confrontarsi, ma anche progettare e pianificare dei progetti che esprimono il nostro territorio, esprimono meglio le caratteristiche, le criticità ma anche i valori e le virtù del nostro territorio. Un luogo dove si possono, come dicevo appunto adesso, sviluppare delle idee insieme ad altri inseriti in una rete che può prendere e auspicabilmente prenderà una dimensione territoriale appunto di distretto quindi coincidente con grossomodo l'area delle Marche del Nord, un luogo di partecipazione perché? Perché fondamentalmente il distretto non è altro che un contenitore però attraverso il quale si possono sviluppare delle politiche di partecipazione e di sviluppo locale del territorio ma non solo appunto sistematiche che è anche quanto in qualche modo la comunità europea attraverso i fondi 2014-2020 suggerisce di fare. E quali sono grossomodo gli enti che hanno preso questa iniziativa, che l'hanno lanciato, insomma che tipologia? Sì, allora innanzitutto il distretto si è costituito in associazione da pochissimo, a metà del mese di gennaio di questo anno. I soci promotori sono soci che rappresentano in maniera abbastanza equilibrata il territorio, sono soci di Fano, di Pesaro, di Urbino e di qualche piccolo paese all'interno delle Marche del Nord. Sono soci che rispecchiano il settore del non-profit ma anche quello del profit, dell'associazionismo e della cooperazione. Gli enti promotori di questa idea progettuale, quindi dell'associazione Distretto Integrato di Economia Sociale Area Marche Nord sono adesso in questo momento 10 ma appunto cerchiamo con tutte le nostre forze di aumentare il numero delle realtà che si associano al distretto e intendiamo entro l'estate di quest'anno portare il distretto a un numero di associati grossomodo intorno alla cinquantina di organizzazioni, tra le quali non ultime gli enti pubblici, quindi i comuni che sono nella nostra provincia quasi 60. E quindi i prossimi passaggi? Allora i prossimi passaggi, il primo passaggio è quello che attraverso anche questo incontro abbiamo voluto realizzare questo è il primo incontro pubblico dopo la costituzione dell'associazione ed è un incontro volto oltre che a descrivere le linee progettuali del distretto anche a comunicare le nostre strategie e a raccogliere eventuali adesioni. Il primo passaggio che noi stiamo facendo è quello di coinvolgere più realtà possibili nella maniera più capillare possibile. Abbiamo incominciato a ragionare insieme agli aderenti, il distretto, su alcune linee programmatiche di sviluppo di progetti che riguardano per esempio l'alimentazione sana, la cultura con il Bramante a Fermignano, riguardano ragionamenti che interessano anche lo sviluppo locale e territoriale, il turismo, la cultura e tante altre cose. Abbiamo in questo momento la possibilità di organizzare un percorso formativo che riguarda i bandi europei quindi per formare in maniera molto professionale e anche in maniera che rispecchi una qualità spendibile delle persone rispetto all'accesso ai finanziamenti europei. Perfetto, ringraziamo Giovanni Di Bari, buona giornata. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.